Beppe Grillo scatenato sul suo blog contro la sinistra e anche contro Claudio Amendola, colpevole di aver detto pubblicamente di non voler vivere in un paese che chiude i suoi porti. Uno scontro, che a quanto pare, finirà in un'aula di tribunale. L'attore, infatti, ha annunciato querela nei confronti del fondatore del M5S. Leggi anche internet gratis, Di Maio lancia la proposta, mezz'ora al giorno per il mio per tutti. La rabbia disperata dei sodali dell'intelligenza piddina è davvero impressionante, scrive Grillo. Il livor furioso che si è scatenato nei cervelli che fiancheggiano la sinistra sta tracimando oltre ogni ragionevolezza. Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie, le invocano, tifano per le buche a Roma e guardano al mondo con la stessa fregola degli appassionati di B-movie horror, roba che indurrebbe alla scaramanzia persino l'aspirapolvere per il popcorn. Poi l'attacco all'attore romano Amendola che però non viene nominato, gente che campa pubblicizzando il gioco d'azzardo augura a noi ogni male possibile, non vogliono vivere in un paese con i porti chiusi, forse temono qualche bisca di stato in meno. Uomini della sinistra frufru ricomponetevi, e rilasciate l'Italia senza condizioni, mi appello a quel briciolo di essere nel mondo che dovrebbe riuscire a muovervi a più miti contegni. Grillo se la prende anche con lo scrittore Edoardo Albinati, colpevole anche lui di aver criticato le politiche del governo sull'immigrazione. Amendola, querelo. Sto querelando. Ritengo ci siano i requisiti per farlo. Ritengo queste affermazioni gravemente lesive per la mia immagine e per questo agirò davanti al giudice competente. Non faccio altre dichiarazioni su consiglio dei miei legali, replica Claudio Amendola.